I numeri nello sport contano, contano molto e allora i 26 punti di Atanasievic e i 23 punti di Leon, parliamo di due giocatori, due schiacciatori tra i più forti al mondo, certificano il ritorno in grande stile della Sir Conad Perugia, che alza la voce, comanda e passa sul campo di Trento, tradizionalmente difficile. 3-1 il finale, la squadra di Vital Einen adesso fa realmente paura a tutti, alza muri invalicabili, Podraskanin è un gigante, Russo è sempre molto efficace, si fa sentire al servizio, difende in maniera strepitosa, non solo Super Colaci ma tutta la Sir si oppone alla grande e si esalta sulle bordate dei Trentini. La chiave della partita si è svolta nel cambio palla, dove sono stati molto bravi a mantenerlo costante, senza subire i loro turni lunghi di battuta, con tanta efficacia, sono stati bravi a venirne fuori da quella situazione lì e poi ovviamente la fase break con il turno in battuta di Leo ci ha cambiato parte del set. Prossima tappa, la prima partita di Champions League, mercoledì al Pala Barton, avversario il Benfica Lisbona.